La società RIMEP è una società che è nata nel 1978 ha sempre operato prevalentemente sulle aree di Parma e Reggio Emilia iniziando questa attività come riparazione, quindi come elettromeccanica e vendita di ricambi Poi nel via via l'attività si è sviluppata con la commercializzazione di motori, drives noi trattiamo anche ventilazione industriale ed elettroport Siamo fortemente radicati e presenti sul territorio proprio perché c'è tutta questa storia e la collaborazione con ABB è nata nel 1992 In che cosa la RIMEP e Celle o meglio per cosa i vostri concorrenti vi invidiano? Ci hanno sempre invidiato e hanno anche cercato di imitare quella che è la nostra territorialità la presenza, quindi la grossa dedizione al cliente, il grosso disservizio che noi diamo e quindi diciamo che qualcuno ha cercato anche di emulare strutture analoghe essendo Parma tra l'altro un'area che è distante da Bologna e distante da Milano quindi noi avendo questa presenza diretta spiazzavamo un po' poi chi si muoveva partendo da È un fattore determinante per il successo della vostra azienda come anche la preparazione del personale? Sì, noi abbiamo sempre puntato su una vendita che non fosse solo una vendita commerciale ma anche una vendita tecnica, quindi diamo tantissima consulenza ai nostri clienti per l'individuazione del prodotto giusto, per lo studio dell'applicazione e quindi anche questo attraverso la preparazione dei collaboratori Quest'anno c'è anche ABB in fiera Come giudica la possibilità di avere un fornitore che copre tutta la filiera dell'automazione motore, inverte, razionamento, PLC, fino ad arrivare ai sistemi robotizzati? La giudico molto positivamente, nel senso che forse mancava avere questo pacchetto completo di prodotti Sicuramente siamo in un'area dove questi pacchetti sono largamente utilizzati quindi questa è un'ulteriore opportunità che avremo per il futuro, per i prossimi giorni e per il futuro Questo è un momento un po' particolare La sua azienda risente della crisi di mercato e se sì, quali strategie di breve periodo sta attuando? La cerchiamo di fronteggiare con una ricerca spasmodica e quotidiana di clienti e di spazi nuovi, di opportunità nuove Quindi questo è un qualcosa che proprio ce l'abbiamo come missione quotidiana Come sarà il mondo del lavoro e il mercato negli anni a venire? Confidiamo di poter andare avanti, siamo fiduciosi nel riuscire ad andare avanti anche perché comunque abbiamo anche un partner come ABB che sicuramente ci darà tutte le possibilità e le credenziali per poterlo fare Rimarrà un mercato per meno perché sarà un mercato che è già diventato selettivo e sempre sarà più selettivo Sicuramente le società che finanziariamente sono a posto, che hanno delle conduzioni attive quindi sicuramente andranno avanti e potranno comunque andare avanti anche con lo sviluppo del mercato Diciamo che essere partner di ABB, per dirla con uno slogan, rende il futuro più rosso Più rosso, perfetto, si si, diciamo che ci dà una garanzia di poter avere una visibilità ed avere fiducia nell'andare avanti Grazie per la disponibilità Grazie a voi della vostra